Grazie Va bene questa panna? C'è anche la panna E anche con la panna me l'entrano i peggiori Questa panna Questa panna Questa panna Questa panna La zucchero Questa panna Oggi in concubitanza con la festa di San Francesco Questa manifestazione del Ciozzo di Sant'Ano Cosa si tratta? Dunque per noi Francescani Oggi è una giornata Importantissima Perché? Perché per la prima volta Ad Aversa Abbiamo realizzato Un desiderio, un sogno Che avevamo da diverso tempo Quello di Incominciare a Offrire Alle famiglie Meno ambienti Alle famiglie Più indigenti Il senso Della nostra fratellanza Il senso dell'amore di Cristo Quindi praticamente Abbiamo organizzato Questo pranzo francescano Alle famiglie povere E la cosa bellissima Che la città ha risposto In modo meraviglioso I commercianti Soprattutto Hanno risposto in un modo meraviglioso Tutti quanti Non hanno esitato Nel dare Il loro consenso Non solo Non solo verbale Ma anche con le opere Anche con tutto quello Che hanno offerto a noi Ecco Quindi questo un po' Ha il senso di questa giornata Chiaramente poi Noi come francescani Siamo più legati Siamo più legati All'aspetto evangelico Della giornata Oggi Si celebra La giornata di San Francesco Del Serafico Padre Quindi per noi è un momento Di gioia enorme Che condividiamo con loro Si ripeterà l'iniziativa? Credo che questa iniziativa Ormai non si fermerà più Nasce in questo momento Ma negli anni futuri Si ripeterà Ogni volta che Si celebrerà La festa di San Francesco Io sono Guido Sono un francescano laico Della Caritas di Aversa Della Caritas di San Francesco Della Caritas di San Francesco Della Caritas di San Francesco Della Caritas